i due temerari vanno a sistemare la scaletta adesso due sono rimasti dei leoni e basta speriamo che non si ammazzino e tirarlo via proprio quello li devo mollarlo per fare i buchi ah già anche perché sennò ciao tirala bene bravo e poi avrà messo su anche il coro perché ha usato quelli autobloccanti c'è l'altra più grossa no più piccara ci voleva ci vuole quell'altra lì è una bussola e dai c'è la vendita la ranetta si è nascosta nel super buco tirala fuori e basta no perché faccio il buco qua eh ma però dopo dobbiamo comunque mettere la ranella ancora tirala fuori è più comoda la spostiamo tutta e basta dai seve tirala via e basta tanto dopo se abbiamo dentro i segni del buco ma sono solo due buco ah no tre ce n'è un'altra questo lo sfruttiamo però sì sì se quello lì non viene via lo usiamo sì per forza anche perché se non viene fuori il tassello dobbiamo per forza usarlo primo passaggio primo passaggio è andato no vito alla defici tanto uno è lì anche se non ti gira dentro nelle mani eh eh sposta sta scaletta via tirala su ma che se sbagli vai dentro nell'acqua non ci stai così ma quando è il carico? ce n'ho tre di batterie usa questa, si fai prima con questo si, fai dentro misura comunque la punta lì, che ce l'ha dentro usa prima questa gli fai prima il buco con questa che è un pochino più sottile vabbè prima fase effettuata storta sei lì messo mare tira via questa scaletta un momento dobbiamo fare anche quell'altro si, se che gira dentro un bocchino perché lavora scorta vuoi dentro un chilometro